Però dicevo, questi che vanno via dal circuito di accoglienza vanno nella clandestinità, quindi bisognerebbe metterne i centri di identificazione e espulsione che i governi di sinistra hanno chiuso, tra cui anche nella mia regione per esempio la Presidente Saracchiani ha voluto chiudere il CIE e quindi far circolare persone che vivono nell'illegalità tranquillamente sul territorio nazionale. Infatti su quello, guardi, noi abbiamo più volte detto che è necessario riaprire i CIE, perché chi è nell'illegalità non si può permettere di circolare liberamente sul territorio, perché sa come avviene adesso? Gli viene consegnato un foglietto, si chiama foglio di via, dice guarda tu devi andare via, ovviamente nessuno si sogna di andare via, non a caso il 60% di chi ha il diniego della protezione, il 60% continua a circolare liberamente sul territorio nazionale. Quindi noi abbiamo, e chiudo, 177 mila persone che sono nel circuito di accoglienza, più altre centinaia di migliaia di persone, circa altre 200 mila, che continuano a girare, o magari perché hanno avuto la protezione e quindi escono dal circuito, magari perché vivono nell'illegalità, continuano a circolare liberamente sul territorio nazionale, senza che sia garantita nemmeno una sicurezza, perché chi sono, dove sono, dove vanno, non si sa.